Questi ragazzi li conosco perché li ho visti su TikTok tante volte e parlano dei box di 151 che sono introvabili. Attenzione perché io proprio in questo momento ne ho uno qui che ho comprato su Vinted a prezzo maggiorato rispetto a quello che era il prezzo consigliato nelle edicole, però ne volevo uno a tenere sealed, quindi ce l'abbiamo lì, però sono curioso di sentire la loro opinione. Se vieni da me domani mattina ti do 30 euro. Ma posso prenderne solo 30? Dipende quanti ce ne sono. Quindi se ne hai 300 posso prenderli tutti? Esatto. In base a che criteri? Cioè se arrivi per primo li prendo tutti io. Se sono ancora disponibili. Quindi tutti posso prenderli? Allora vengo subito. Deve essere il primo però. Va bene, sto lì piuttosto, non so, a dormire, posso farlo, no? Certo. Allora, questo breve sketch è servito a far capire come è andato il restock 151. Ora, piccola parentesi, per chi non lo sapesse, 151 è un set Pokémon, molto voluto, un set di carse Pokémon estremamente voluto, perché le istambe Pokémon di prima generazione, appunto il nome 151 sono i primi Pokémon mai usciti, e quindi ha fatto riscoprire il collezionismo tra un sacco di persone che prima non collezionavano. Esatto. Ma anche chi già collezionava, che poi ha smesso, si è rimesso a collezionare. Eccomi qua, tra l'altro, sono proprio io. Per questa espansione. Proprio perché è stata un'espansione che ha portato una bentata di novità. Esatto, diciamo la svolta dell'ultima era poco. Esatto, Scarlatta Violetto non è andato così bene, diciamoci la verità. No, cioè in generale come gioco, credo, come percezione del gioco. Ci sono state delle carte carine. Ah, loro parlano solo di carte, ok. Però, secondo noi, a differenza di spada e scudo, è molto piccolo, come se ci sono delle carte in spada e scudo grosse, guarda il Bugha, guarda il Giratina, i vari Charizard. Però si deve dire che magari, adesso che finisce questa era, le carte iniziano a salire. Esatto, beh, quella alla fine è una logica di mercato di ogni set Pokémon. Quindi, tornando a noi, era un set molto voluto. È stato acquistato tutto, quindi non era più disponibile né dai fornitori, quindi né da acquistare per noi negozi, né tantomeno da edicole, negozi online, quant'altro. E quindi, niente, il prezzo delle carte è saliti. Tant'è che il prodotto è arrivato, quindi è partito da un prezzo di circa 35 euro, prezzo originale del bando. Sì, sono proprio 36 euro. Il listo iniziale. Esatto, il listo iniziale da sei bustine, il pacchetto, 35 euro, più o meno. Le carte salgono, perché sono molto volute, e arrivano a costare all'incirca 65-70 euro. Quindi queste sei buste fanno un aumento di circa 30 euro. Oddio, io l'ho pagato, quello che avete visto inizialmente, 50, mi pare. O 50 o 52. Che su 30 euro è tanto. È il 100%, cioè io sfido a trovare qualcuno che investendo in azioni, qualsiasi altra cosa, materie prime, faccia un 100%. Se tu compri e hai già il 100% in più. Che poi magari la rivendita, puoi anche farlo a 15 euro in più. Esatto. 50 oggi è un prezzo onesto. Ok. Comunque, in realtà il valore è il doppio. Io l'ho preso una decina di giorni fa, torno al 10 di ottobre. Il valore è il doppio. Il problema è questo. Il restock 151 non l'hanno fatto a prezzo attuale di mercato, ma l'hanno fatto al prezzo di listina iniziale. Quindi a 35 euro. E da qui i problemi. Scoppiato. Gente che si picchiata, gente che spinge gente. Ma anche perché sono prezzi buoni. Sono ottimi. Sì, io sono andato in un paio di edicole qui nel mio paese a domandare se avevano ancora i bandoli 151. Mi hanno riso in faccia, mi hanno detto sono finiti prima di arrivare. Ho detto bene, perfetto. E per i negozi, assolutamente. Perché i negozi non li trovano. Hanno messo in vendita un prodotto che costava 70 euro, o meglio che la gente era disposta a pagare 70 euro a un prezzo di 35. Quindi capite che tutte le persone che hanno fatto quello che hanno fatto, quindi che si sono menate, picchiate e quant'altro. Non dico che hanno fatto bene, però se si tratta di numeri grandi, capite che se qualcuno vi regala 30 euro moltiplicato per 100 box, sono 3.000 euro in un attimo. Poi c'è anche da dire una cosa, perché qualcuno sicuramente adesso lo scriverà. Eh ma non si vende così facilmente. No. Beh, snì. Mi sembra che si venda abbastanza facilmente. Non ha le cifre di cui stanno parlando loro. Non ha 70 euro. Però su Vinted ci sono un sacco, veramente un sacco, di prodotti caricati anche a 60 euro con tanti cuori. Poi io ne avevo curati un paio a una sessantina d'euro quando stavo tenendo d'occhio un po' il mercato e quando su Vinted metti un prodotto nei preferiti ti contatta quello che lo vende, il venditore, ti dice facciamo 56 e io gli avevo detto guarda grazie stavo cercando qualcosa sui 50. E effettivamente sui 50 poi ho trovato e ho comprato. Quindi non si vende alla cifra che stanno dicendo loro, però sai, paghi 35 euro un prodotto che vendi a 50, non fai il 100% di guadagno come stanno dicendo, però 50 lo vendi molto onestamente. E se hai comprati 35 sono praticamente 15 euro regalati su ogni bando. Si vende con una facilità estrema a 151, cioè se voi lo mettete in vendita, lo vendete instant, chiaramente al prezzo giusto, è logico che se lo mettete in vendita a 150 euro non lo vendete. Ma neanche a 70. Anche se ho sentito di alcune ultra premium e cose vendute di prezzo. Beh le ultra premium è un altro discorso. 100 euro quando sta già valutate possiamo dire, sopravvalutate di brutto. Diciamo che alcune hanno il pull bello, però per il prezzo che hanno non ne vai la palla. Vabbè ma le ultra premium penso anche che siano solo da collezione in realtà. Assolutamente no, è più una collezione bella dal punto di vista estetico. Da te le sigillate diciamo. Ci sono le 3 promo che sono carine. Sigillate sì. 3 promo che sono carine però sì è vero. Il pull è mediamente più basso rispetto alle buste normali dentro gli ITB o dentro, che ne so, i blister da sé. Sì sì. Quindi il nostro video è stato fatto per spiegare quella che secondo noi è stata la logica e la reazione dietro a questo restock e dietro alle persone. Cioè è giusto perché in molti hanno detto, ma non ci si dovrebbe mai picchiare per le carte. Il collezionismo... Beh grazie, non ci si deve mai picchiare neanche per il calcio, però non è quello il punto. Però è ovvio che se sono 15 euro regalati la gente va giù di testa. Il collezionismo sta diventando violento. Si colleziona solo per soldi. Beh, ma non è che si colleziona solo per soldi. Se mi regalano 30 euro, come avete visto nell'esempio... E poi attenzione, io ho acquistato non per vendere. Per tenere sealed. Cioè il mio è sealed. E rimarrà sealed per non so quanti anni. Se poi un giorno mi avrà voglia di aprirlo, lo aprirò. Se mi avrà voglia di venderlo, lo venderò. L'iniziale io lo prendo. Vabbè, per carità è anche un investimento alla fine. Perché comunque c'è anche una cifra da mettere iniziale. Certo. Cioè se io prendo 50 di questi blister, comunque sia devo spendere 1500 euro, anzi di più. Quindi non sembra, ma c'è l'investimento iniziale di un prodotto che in realtà è già alto, però comunque l'investimento c'è. Sì, ma non so neanche se li trovi, 50 di questi blister. Dove li trovi? Cioè o se è un negozio, se non penso. Diciamo che in realtà è più un investimento coraggioso. Certo. Sì, sì. Devi solamente avere i soldi. Riguadagnarli riesci. Esatto. Sì, sì, lo lasci. Devi solamente avere i soldi. Io ho il mio ATB di 151 che ho lì nello sfondo, non so se si vede, eccolo lì. Ce l'ho in case ed è chiuso e di fianco a lui c'è il numero 100 di One Piece che è chiuso a sua volta. Di là, diciamo che se hai i soldi vai quasi a colpo sicuro. Esatto. Cioè vai in edicola e puoi raddoppiare i tuoi soldi senza problemi. No, raddoppiare non è vero. Perché magari fanno il restock, li mettono a prezzo più basso, quindi le carte iniziano a scendere. Non è andato così perché il restock è stato di pezzi molto limitati. Cioè rispetto alla ripesta che c'era, bassissimi. Magari tabaccai, magari in cittadini o paesini con due. Due. Uno. Uno. Sì, ma ripeto, infatti mi sono stupito. Io vivo in un paesino che tolte le frazioni ha 15.000 abitanti nel paese e nelle due edicole che ho girato si sono messe a ridere. Quindi vuol dire che anche qui c'è gente che comunque è affezionata. Anche i negozi grossi, per esempio il GameStop, hanno usato delle forniture di un pezzo. Che tra l'altro, qui un'altra parentesi, i negozi più furbi vendono a 60 euro. E quelli non vanno a ruba. Perché forse i tabaccai non possono. Eh, non credo. Dici. Eh, non penso. Forza, anche perché alcuni lo sanno. Cioè, alcuni lo sanno che 151 va forte. Anche perché dopo che vedi dieci persone che ti vengono a chiedere 151 e tu ne hai già vendute due. Vedi la rissa lì davanti e dici, cavolo, forse qua c'è qualcosa che non va, mi conviene alzare i prezzi. No, cioè, può essere che abbiano questi limiti. Invece GameStop, prezzo normale. Prezzo normale. E' giusto così, nessuno, non c'era la resta al GameStop da... Anzi, io, ad esempio, sono stato al GameStop e c'era un blister. E c'era un ragazzo al telefono con un suo amico, non lo so se vedi chi gli stava dicendo, gira tutti i posti per trovarli. E alla fine questo ragazzo mi guarda e fa, no, no, prendilo tu. Proprio per farvi capire che il prezzo era giusto. Cioè, uno poteva comprarlo, no, ci stava pensando, il ragazzo. Prezzo di mercato. Alla fine neanch'io non l'ho preso perché costava 60 euro, non c'è guadagno. Poi sicuramente... Eh, però prima dicono che lo vendono a 70 e si fa al 100% tranquillamente. A 60 non c'è guadagno. No, allora se si vende a 70 c'è di 10 euro, quindi non si vende a 70. E che salirà, perché come ha detto prima Ale, il prezzo attuale era alto, sì, però non ha modificato i parametri di mercato, appunto, perché è stato stampato in pochissime quantità. E anzi, forse fomenta ancora di più l'aumento di prezzi, perché adesso quelle poche quantità le hanno già quasi, diciamo, fatte fuori tutte, perché alla fine la gente vende, o magari chi le sta sbustando in live, così, magari lo sta ancora facendo. Chi fa le war che vende... Chi fa le war con Paypal, amici familiari. Però... Ah beh, sì, lì sono un po' di truffo. Per il resto il prezzo salirà appunto perché non ce ne sono più. Cioè ha fomentato ancora di più questa mania, la gente parla ancora più di Pokémon e quindi sale ancora di più. È il restock giusto, fatto dell'espansione giusta, ha il prezzo sbagliato. E quindi la gente, ci sono quelli che dicono il collezionismo sta morendo, nel senso di comportamenti nel collezionare, quindi picchiarsi, cercare di arrivare prima dell'altro, io devo averlo per forza. Ma che poi è anche qua, ma scusami, cioè, non so, questi che dicono queste cose, cioè hanno l'idea che il collezionismo sia cosa, tipo ti riunisci tra i amici, nerd, e metti le carte nell'album con tutti i fiorellini intorno. Ma è anche, è anche questo. Che discorso è questo? Io sinceramente... Bambini che spustano, capito? Sì, certo, però ormai il collezionismo non è più una cosa da bambini, anche perché costa un sacco di soldi. In tanti è impegnativo. È impegnativo, cioè ragazzi, è veramente importante. Un TP costa 50 euro, un box ne costa 150, 160. Cioè, capito? Quindi, secondo me c'è molto falso perbenismo in quelli che dicono ah no, il collezionismo sta morendo. Cioè, no. Ma il collezionismo credo che sia la sua massima espressione in questo momento. Cioè, il collezionismo è molto... È difficile da portare avanti con questi prezzi, ma è alla sua massima espressione. ...piuù, diciamo, improntato all'investimento al giorno d'oggi, non tanto più alla che bella la carta nell'album. Ma è purtroppo sì. Cazzo, è meglio così. Eccomi. Però la maggior parte delle persone collezionano per poi rivendere. Ed è giusto. Allora però non è collezionismo. Cioè, se vuoi fare la collezione perché te lo vuoi tenere. È un discorso diverso. Poi, non significa che un giorno non... Cioè, quando compri una roba per collezionismo non hai in testa di rivendere l'attenzione. Poi può succedere che tu la vada a rivendere. Ma non è la tua intenzione. Cioè, no, non è collezionismo. Questo perché se ti regalano 30 euro in edicolo... Allora non è collezionismo. Fino a quando non limitano i privati proprio che non possono più vendere, sarà così. Esatto. E credo che è una cosa che non succederà mai. Anche perché... No, poi le scambi... Non puoi assolutamente limitare. Quindi questo, diciamo, percorso andrà avanti un po' all'infinito. Diciamo che anche grazie ai privati, se si stabilizzano i prezzi, se poi si alzano... Perché ci fossero solo professional metterebbero i prezzi che vogliono loro per rientrarci magari box e cose del genere. Invece facendo così, essendoci privati, è proprio prezzo di mercato. Cioè, quanto una persona è disposta ad acquistare un prodotto. Certo, ma infatti questa è la logica dei car market e quant'altro. Però noi siamo, non dico a favore delle risse, però siamo pro al... Non è che sia giusto ricevere 30 euro se ti regalati. Sì, ma loro stanno continuando a fare questo discorso di 30 euro regalati, ma è errato. E sono stati loro a dire che è errato, dicendo che a 60 non lo comprano perché non c'è margine. Quindi non lo vendi a 70, non è vero? Cioè, non è così? O meglio, per riformulare. Pensiamo che la reazione sia stata più che giusta, più che umana. Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Poi che sia sbagliato, lo sappiamo. Sbagliato da un punto di vista etico, senz'altro. Ma etico nemmeno. Cioè, aspettavo il refill di 151, vado a prendere il refill di 151. L'etica è un'altra roba. Però capita anche voi che se gli dicono, spingi quel tizio, ti diamo 3000 euro. Ma che discorso è? Un pensierino, forse. Uno lo fa, no? Non trovate? Ma cosa? Anche quelli che addirittura hanno detto, eh, ma dovreste, questo riferito a poco, non lo so, limitare le quantità ordinabili dal singolo. Secondo me questo... Beh, se uno arriva lì con un milione, si porta a casa tutto il materiale e noi ci spazia la bocca. Una stupidà. Cioè, se uno viene qua, ci vuole comprare tutto l'armadio, perché no? Cioè, ben per lui... Perché non siete collezionisti, però, attenzione, eh. Possiamo pure fargli lo sconto, ben per noi, perché rendiamo tutti in un colpo solo. E' certo. Anche perché, come ho detto prima, Ale, non è che se tu non dai limite, c'è uno lo compra in infinito, anche perché, grazie a Dio, è vincolato dalla quantità di soldi che uno ha, non è che puoi comprarne un milione. Quindi, ragazzi, questo è il nostro pensiero. Cioè, noi pensiamo che la reazione sia stata più che giusta. Ma certo. Non critichiamo, ma neanche, diciamo, a seconda... Ma poi, se c'è della gente che si è picchiata per prenderlo, io non lo so, però mi sembra un po' strano. Siamo quelli che si sono menati. Contro etica, però... Ma etica è una parola usata malissimo in questo video, però sono d'accordo con tante cose che hanno detto, secondo me hanno fatto degli esempi sul lungo che non ha senso. Poi sì, quei box che hanno lì dietro, quelle carte gradate, sarebbero da prendere, ma non è che vado lì e li spingo e le prendo, sarebbe abbastanza illegale come cosa. Però, secondo me sono andati un po' sugli estremi in questo discorso, che... ci sta, è stata una bella chiacchierata, secondo me anche interessante, su quello che è il trend di 151, che in questo momento è veramente qualcosa di superambito, però non penso che la gente si sia picchiata per questo, ecco. O almeno mi auguro che questo non sia accaduto, perché significa essere andati decisamente oltre.